Il bonus docenti come verrà distribuito? Il dibattito sulle modalità di attribuzione del bonus sta interessando numerosi collegi e assemblee docenti alla ricerca di una soluzione che non espropi delle proprie prerogative l'organo tecnico della docenza, cioè la platea in fin dei conti dei possibili premiati. La legge dice che il bonus ha natura di attribuzione accessoria, quindi è contrattabile, e partendo da questo ragionamento abbiamo costruito una proposta ragionale unitaria dell'Emilia-Romagna e di tutti i sindacati, la quale prevede di gestirlo in modo coordinato e analogo a quello del FIS, nell'ottica di due parole chiare, il FIS riconosce e il bonus valorizza. L'idea di fondo non è di mettere le mani su fondi in più per la contrattazione d'istituto, bensì quella di preservare le prerogative dei collegi di fronte alla possibile autocrazia del dirigente scolastico, il quale potrebbe decidere di un fantomatico merito solo favorendo il suo staff. Ci soffermiamo su questa ragione di fondo perché siamo all'anno zero della valutazione premiale e il meccanismo va affrontato con grande trasparenza, come del resto è avvenuto negli anni per la distribuzione del FIS, la quale solo recentemente ha raggiunto una sua architettura più o meno accettata. Quella che segue, la mostro con le cinque sigle dei sindacati intestata, è la proposta regionale unitaria dell'Emilia Romagna sulla possibilità di portare il bonus docenti al tavolo di contrattazione RSU di ogni singolo istituto. Essa si compone di tre documenti, la proposta vera e propria che è questa appunto da inserire nelle singole contrattazioni di istituto, si tratta di una proposta, quindi si potrà inserire anche unilateralmente come nota verbale, laddove la reazione del dirigente fosse contraria, fosse assolutamente contraria alla negoziazione del bonus. In ogni caso l'effetto sarà quello di portare avanti una posizione unitaria a fronte delle variegate posizioni dei dirigenti scolastici. Il secondo documento è una delibera per il collegio dei docenti, una sorta di vincolo di mandato ai due docenti che verranno eletti per farsi portavoce in comitato di valutazione di controverso delle indicazioni del collegio dei docenti. La filosofia di fondo che proponiamo è quella che almeno in questa fase di transizione sarà più facile valorizzare e far riconoscere ai colleghi come accettabile chi lavora di più, piuttosto che chi lavora meglio, diciamo, tra virgolette. Quindi come suggerimento per la discussione dei criteri e dei suggerimenti, le buone pratiche anche collettive della lettera B e le figure organizzativo-didattiche della lettera C del comma 129 della legge 107. Il terzo documento è una delibera per il Consiglio d'Istituto che ha le medesime finalità. Propedertica a tale proposta, per cui ne parliamo alla fine ma è la più importante, è l'affermazione della centralità del collegio dei docenti, che potrebbe essere valorizzata nell'attuazione di un percorso come quello che segue. 1. Proponiamo che nelle scuole venga istituita una commissione ad adesione volontaria, al cui interno andranno poi individuati due colleghi da eleggere nel comitato di valutazione, la quale commissione dovrà stilare una serie di proposte e di linee guida per il comitato stesso. 2. La vera proposta qualificante è che tali suggerimenti vengono poi presentati dalla commissione al collegio dei docenti, in un'apposita seduta, dove verranno discussi e approvati formalmente. 3. Di questa approvazione formale il comitato di valutazione dovrà certamente tenere conto. Infatti il parere finale dell'organo tecnico della docenza riteniamo che vincoli in qualche modo il mandato dei quattro membri del collegio, quindi i tre docenti, di cui due eletti nell'ambito del collegio e uno individuato dal consiglio d'istituto, più il dirigente scolastico, quindi dicevi quattro membri che appartengono al comitato, nell'ottica di una proposta competente, la quale possa poi essere raccolta anche dalle altre componenti del comitato. È un percorso di focalizzazione sulla deontologia e sulla professionalità docente, che intendiamo suggerire a tutti i colleghi, in premessa, l'accordo unitario sul bonus, affinché la sua distribuzione sia la più equa, la più condivisa e la più trasparente possibile.